Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 novembre, grazie a tutti quelli che si sono collegati ieri per vedere Quarta Repubblica, eravamo tantissimi e spero che ce ne siano altrettanti questa sera per parlare di Matrix che andrà in onda su Canale 5 e come sapete in seconda serata, qua togliamo il ruolo a sera a Canale 5. Che cosa è successo sui giornali? Il governo va avanti, il titolo dei giornali, buongiorno Agustin, sulla questione della trattativa con l'Europa si sarebbe trovato un compromesso e non si parla ancora di decimali, nel senso che non è uscita sui giornali alcuna indischezione se non forse il messaggero che concettifica che si potrebbe togliere uno 0,2% dal deficit previsto al 2,4%, una delle retroscena più interessanti, ciao Luca, ciao Pinella, è quello sicuramente di Minzolini oggi sul giornale che spiega come proprio il ragioniere Franco, cioè l'uomo, il contabile del tesoro, quello tanto odiato dai grillini e da Casalino, beh, proprio quello contabile avrebbe spiegato a Di Maio come si potrebbe uscire da questa impasse. Sostanzialmente, dice il ragioniere, per il reddito di cittadinanza, invece di far partire, perché è difficile tecnicamente farla partire subito l'operazione, facendola partire a maggio, si risparmierebbero 3 miliardi di euro, quindi sarebbe sì prima degli europei, quindi avrebbe il vantaggio di essere una manovra elettorale, ma avrebbe il vantaggio di arrivare soltanto dopo 4 mesi l'inizio dell'anno fiscale. In questa maniera si recuperano i 3 miliardi che permetterebbero al deficit di essere non del 2,4%, ma del 2,2%. Insomma, trucchetti contabili che metterebbero d'accordo tutti, se così fosse sarebbe ovviamente una specie di presa per i fondelli. A Lesina e Giavazzi ci spiegano che la crisi è globale, non riguarda soltanto l'Italia, e che la manovra di questo governo ci porterà probabilmente in recessione. Avete sentito bene, in recessione. La recessione è due trimestri consecutivi, 3 mesi più 3 mesi, con il PIL negativo. L'ultimo trimestre il PIL è pari a 0, la recessione è una cosa da cui avere molto timore, come vi è chiaro. Non puniteci fino alle europee, invece è il retroscena della Repubblica. Cioè a Repubblica sostengono che la trattativa del governo Conte, Di Maio e Salvini sia quella di chiedere all'Europa sostanzialmente di prendere tempo in maniera tale che non arrivi l'efficacia, non l'efficacia, la sanzione certificata prima delle europee di giugno 2019. Io penso che proprio l'anello al naso, qui che entra qua ed esce qua, un bel anellone, Juncker, nonostante non sia sempre sobrio, Dovrowski e Moscovici e i tecnocrati europei non ce l'hanno e quindi queste sanzioni, posto che anche loro stanno facendo campagna elettorale, se arrivano, arriveranno prima delle europee. Ma Repubblica invece pensa che loro ci possano cadere. I giornali oggi, tutti interi, si occupano della morte di Bernardo Bertolucci. L'unanime, unanime considerazione è che è morto un grande regista, l'unico peraltro come nota oggi Tornatore, ma anche Merenghetti sul Corriere della Sera, che ha mai regista, vinto un Oscar, perché abbiamo vinto tanti Oscar, ma mai per la regia evidentemente, se non con Bertolucci, cosa che non mi ricordavo. E vedete, io sono colpito da una cosa, che l'ultimo tango a Parigi, mi sembra che sia del 1972, con Marlon Brando e la Schneider, che era una giovane attrice, diciamo, alle prime armi, mettiamola così, non sono certo un critico cinematografico, quindi siate indulgenti. Beh, insomma, nel 2011, alla morte della giovane attrice, che non era più giovane, il regista dice, a quel punto vi devo rivelare che nel 2011 ci fu, nei confronti di questa ragazza, un vero e proprio stupro. Il sesso che ebbe con Brando, il sesso anale che ebbe con Brando, e quel famoso panetto di burro che tutti quanti voi ricordate, o se non me lo ricordate, disgustosamente è diventato il tema fondamentale di quel film, bene, o uno dei temi fondamentali di quel film, fu fatto all'insaputa dell'attrice, non era nella sceneggiatura, non era scritto, non gliel'era stato detto, era un'operazione che voleva fare Brando e che il regista disse, bene, così è più vero, così è più vero, quindi lo stupro è più vero. Allora io dico, queste femministe, Natalia Aspesi, che oggi in maniera obliqua ci gira intorno, ci fanno due palle così su Dolce Gabbana, sul Cannolo, sulla pubblicità sessista, io non dico che ricordino gli anni 70, perché gli anni 70 sono andati, diciamo, in paradiso, ma che oggi non ricordino come quel grande capolavoro sia una grande violenza sessuale, è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello, chiaro? Non è che va bene tutto, perché l'ha detto Bertolucci, il grande maestro, può far trombare senza il permesso una sua attrice, o no? O no? E chi ischi può fare la stessa cosa? E va bene tutto? Se tu sei una persona, diciamo, che fa parte di questa, di questa, di questa, di questo, mi ne, ti va bene. Se lo fai invece Dolce Gabbana con il Cannolo, che non vuol dire assolutamente nulla, non c'è nessuna violenza, beh, allora, beh, quello no. Allora, io questo mi stupisco, che oggi le nostre verginelle del mitù, zitte e mute, una che alzasse il dito, poi la si può anche contestare, lì si può anche dire quella che... Ma la si contesta esattamente come la contesto sul Cannolo, ma che siano semplicemente silenti, mi viene veramente, mi fa veramente vomitare. Vabbè, Paolo Barilla, bene, andiamo a delle cose serie, oggi intervista al Corriere della Sera in cui dice una cosa sacrosanta per combattere l'obbasità minorile, noi faremo di tutto, ma il punto sostanziale, cari amici, non è quello di tassare le bibite zuccherate. Chapeau a Barilla. La questione di Di Maio e della sua casa, diciamo, della sua casa e dei suoi lavoratori in nero viene ripresa bene dal giornale che continua a dire che i vigili sono andati a verificare il capannone fantasma della società e poi le Iene questa sera diranno che saranno tre gli altri lavoratori in nero, di cui uno avrebbe lavorato in nero per altri tre anni nella ditta del padre di Di Maio. Belpietro dice, ragazzi, non mettete Renzi e Boschi sullo stesso piano, anzi se la prende, come spesso fa Belpietro con Renzi e Boschi, che sono una specie di battaglia che la verità conduce in maniera monotematica, anche noi le abbiamo fatte, mi ricordo, con Fini e la casa di Monte Carlo. Feltri, invece, sul Libero dice, ma ragazzi, non mi fate difendere Gigi Di Maio, io lo attacco su tutto e lo considero un criminale, se lo sto esagerando per le sue incapacità di governare, ma su questa roba qua, ma come si fa ad attribuire a Di Maio una colpa eventuale del padre? E su questo Feltri è molto coerente. Vite sulla fattura elettronica, sono dettagli che vi interessano poco, perché i commercialisti e Asso Software litigano, perché i commercialisti avrebbero messo a disposizione un software low cost e l'Asso Software, che è l'associazione dei softwareisti, se la sarebbe presa con i commercialisti che avrebbero fatto questo software. Insomma, nella dramma della burocrazia e del castello kafkiano della Fisco Italiano, Italia Oggi ci racconta anche questo piccolo dettaglio riguardo alle battaglie corporative. Se volete sapere qualche cosa sulla battaglia, per ora solo navale, tra Ucraina e Russia, Alessandro Orsini oggi sul messaggero vi spiega tutto e vi spiega perché Putin non può rinunciare alla Crimea, non può rinunciare a quel porto che considera russo per il semplice motivo che americani ed europei pensano di utilizzare quello che un tempo era lo stato coscinetto della Russia nei confronti dell'Europa come uno stato coscinetto dell'Europa nei confronti della Russia. Molto semplice, molto chiaro per gli ignoranti di geopolitica come il sottoscritto, scritto, e forse qualcuno di voi, leggere Orsini può essere molto comodo. Terzo valico è lo scoop del messaggero, sarebbe da fare quello che penso sia la ferrovia che da Genova arriva a Milano, insomma il terzo valico per le merci, quello che dovrebbe sbloccare il porto di Genova con la zona più produttiva del paese, è da fare secondo l'analisi costi e benefici, ma il report dei sanci del Ministero delle Infrastrutture sarebbe stato secretato, questo scrive il messaggero da Toninelli e allora vale tutto. Allora amici, qua io non riesco a vedere molti vostri commenti, non so come mai, modalità notifiche disattivate, abilitata, ma com'è possibile? Come si fa a vedere? Scorsi verso essa? Ragazzi abbiamo le modifiche che non riesco a vedere le vostre notifiche, mi dispiace, vedo Francesco, vedo Barbara, Martina, Camillo, Pennisi che mi seguono, li saluto tutti quanti e dico che questa sera, come sempre a Canale 5, in seconda serata, vedremo insieme, spero, Matrix con tanti di voi. Tra poco la sentenza, non so se è ancora uscita che riguarda Berlusconi della Corte Europea, vedremo se sarà interlocutoria o sarà interessante, in quel caso lo commenteremo. Ciao!